E salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di Toxigamer88 Oggi riprendiamo con Oblivion, Dead Skulls 4 Continuiamo le nostre missioni nella gilda dei guerrieri Perché siamo quasi alla fine Quindi aspettiamo che si carichi il Blur Parliamo di nuovo con lui Anzi, facciamo un salvateggio di backup ragazzi Che ci serve, eccolo, facciamo questo Ok, dov'eri Perfetto, infiltrazione, ottimo Ok Infiltrazione Un'altra quest da affrontare Se non sbaglio è la penultima Guardate che faigo Tutto con il set Dremora Deadra, scusate Dove andare, dove andare in questa compagnia Blackwood All'Eyawin Beh, ci manca poco Finiamo anche queste due quest Così poi mi concentro solo su Batman Arkham Asylum Vediamo se riesco a terminarle in uno o due giorni Anche se la vedo dura Cioè, dovrò spremere al massimo il mio tempo libero Ma vabbè Ok, siamo quasi arrivati Eccola qui Blackwood La compagnia della foresta nera Con chi devo parlare qui Armatura di vetro Oh, come siamo attrezzati bene Sopra Io ho maglia suprema Così per sicurezza Intanto mi frego anche questo Dovevo parlare con lui Con questo argoniano Ovvio Uniscite alla compagnia Blackwood Nessun lavoro per la gilda Wow, sono veramente efficiente Perfetto, seguiamo questo argoniano Un po' più di velocità Tutto così dark qui dentro Cioè, noi abbiamo tutto blando Molto più rustico Qui invece è molto più professionale Seguiamo questo tizio Sembra un po' inesperto Ha un'armatura dedrica addosso Cioè, come minimo Lui dovrebbe dire Cazzo, tu non è che sei pericoloso Di più E non vorrei dirti Che sono anche l'arcimago Di una gilda Quindi, della gilda dei maghi Per l'eccellenza Hai presente Quelli che sciottano tutti Ok, al di là degli errori I grammaticali Ok, chissà cosa da dirci Interessante Wow, ci danno degli incentivi Sì, sotto forma di pillole Per l'infadist Questo Wyatt è un gift Delle spalle di Argonia Sap Ok Tu contrabbandi l'infadist Non sei stupido Ok Ok Ok, devo berlo adesso Un attimo Non ho capito Forse devo Prima bere Sto Squacquarume Ho ingerito la pozione Di linfadist Mi sento sommergere Da una strana Sensazione Caricamente Siamo arrivati A bordo dell'acqua Che pare sia Infestata dai goblin Mi è stato Dato l'ordine Di attaccare Ma questo Ah, è qui Eh, allora evoco Lui Dove sono sti goblin? Scusami Aspetta, aspetta, aspetta Un attimo Un attimo Devo ricaricare Devo ricaricare Perché è successo Un guaio In poche parole Eh, questo elmo Mi dà troppi problemi Con questo effetto Ed è Pericoloso Ehm Facciamo le cose Per bene Spariamoci questo Lascio attaccare L'oro È la vocazione C'è anche Il re leone Avete visto? Salvo qui Vai Minchè è più alto Di me Come dice Non hanno nulla Questi goblin Ok Adesso dobbiamo guardare Nelle case E uccidere Questi goblin Questi strani goblin Come vedete La porta Appare in rosso Però ho catturato L'anima Vediamo che anima Abbiamo catturato Insignificante Tutto questo Tutto questo Troviamo soltanto Degli indumenti Cose che non servono Intanto ripuliamo Ok Cosa è successo I goblin Che hanno invaso A bordo Dell'acqua Sono stati sconfitti Cosa è successo Cosa è successo È una droga Che rende Gli argoni Ani Molto Più potenti Ok Ok Dobbiamo andare All'infa Dell'acqua Comunque Spero che adesso Vi piace Il nuovo modo Di Di risolvere Le quest E affrontare Tutto Perché le affrontare In maniera Molto più veloce Senza perdere Troppo tempo Qualche cazzatina Ci sta sempre Innanzitutto Voglio il giorno Manca qualche Oretta Ma niente Di particolare Non perderemo Molto tempo A esplorare Tutto Perché Siamo veramente Dei carri armati Ok Lì vedo qualcuno Adesso La mia Maglia suprema Che dovrebbe essere Ci sarà sempre Utile Avere Un incantesimo Del genere È Devastante Perché si Dura 5 secondi Ma 100 punti Guardate Pecore morte Persone morte Che cosa è successo Che cosa è successo Qui Sì Queste Le missioni della gilda dei guerrieri sono quelle meno entusiasmanti. Diciamo che quelle della gilda dei maghi sono bellissime. Tutte. Tranne quelle iniziali delle raccomandazioni. Anche quelle della gilda dei ladri sono stupende. Perché richiedono appunto molta furtività. Poi c'è il top. Le missioni della confraternita oscura. Che a detta di molti sono le migliori di tutta la serie Elder Scrolls. Missione completata. Infiltrazione. Bene ragazzi abbiamo completato questa quest. E adesso vi saluto. Vado a sistemare un pochettino. Vado a vendere qualcosa. Dai è da tanto che non vendiamo qualcosa in diretta. Vendiamo un pochettino di cazzate qui vicino. E sfruttiamo anche la nostra abilità di commercio. Dovremmo avere commercio supremo. Commercio supremo. Commercio supremo dove sei? Vendiamo un po' di cose e ci salutiamo. La missione infiltrazione è finita. Come vedete è durata poco. A differenza di quelle della gilda dei maghi. Che veramente erano belle toste e belle lunghe. Qui abbiamo fatto per lo più missioni secondarie. Che non sono legate alla trama della gilda dei guerrieri. Ecco perché mi rodo un pochettino il culo. Guardate agli effetti. Dobbiamo sconfiggere la minaccia di Oblivion. Né intanto. Allora innanzitutto investo. Poi vendiamo. Questi calzoni imperiali possono essere ottimi. Se uniti a un'altra cosa che abbiamo preso. Ma francamente non mi serve. Questa. Via. Anzi adesso la riparo. Tutte queste cose vendiamole. E poi ci salutiamo. Dai. Facciamo così. Comunque manca soltanto un'altra missione della gilda dei guerrieri. Abbiamo terminato anche questa fase. Abbiamo finito. Via. Queste più grandi. Più grandi. Teniamoci soltanto quelle grandi. Che in teoria dovrebbero essere le migliori. Vendiamo un po' di. Allora anche al 125. Non cambia nulla di prezzo. Va bene così. Quindi termino qui questo episodio. Ragazzi spero tanto che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Continuate a seguirmi. Like. Commentate. E... Iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.